Sciopero di due ore a livello provinciale dopo la decisione del Governo di porre la fiducia al Senato sul Jobs Act. Qui stamani è mobilitazione, ma non solo a Firenze, ma in tutta la Toscana per dire no. La vostra ferma opposizione di fronte a questo documento? Sì, anche perché il Governo con il voto di fiducia che si appresta a mettere al Senato nelle prossime ore fa un atto di imperio perché si fa dare una delega in bianco dove addirittura quello che riguarda l'articolo 18, il Governo lo dirà con i dettagli attuativi tra qualche mese. Una delega in bianco che chiede sostanzialmente mano libera a rendere totalmente esigibili per le imprese, ma non più per le persone che in esse ci lavorano, diritti insindacabili come ad esempio il divieto per le imprese di controllare i lavoratori a distanza durante le loro attività, il divieto previsto tutt'oggi nelle imprese di non poter demansionare i lavoratori, domani lo potranno essere, quindi essere pagati meno e cambiati anche di mansione. Quindi noi ci troviamo di fronte a un attacco ai diritti civili della persona, non a dei diritti sociali, perché essere liberi di pensare e di credere dentro un luogo di lavoro è essere dei liberi cittadini.